Cosa c'è dentro la valigia del giovane, del pellegrino che varia? L'inimmaginabile, c'è di tutto, da vestiti a regalini, anche da portare alle famiglie, poi non so... Sarete ospitati dalle famiglie? Saremo ospitati da famiglie, quindi anche come pensiero pensavamo di portare dei simboli della nostra città, quindi una piccola arena, quello che può essere dei braccialetti per i giovani di Rio. Saremo ospiti al CERMIG, servizio missionario giovani fondato a Torino da Ernesto Olivero ed è una delle loro case in giro per il mondo, si chiama l'arsenale della speranza. È bene partire senza nessuna aspettativa, non perché dopo si viene delusi, ma proprio per raccogliere quello che poi ci viene dato là. Quindi proprio partire con la disposizione del cuore aperto a prendere al massimo, al 100% quello che ci viene donato. Quindi non ho un obiettivo, là capirò questo, là voglio pensare a questa cosa, proprio andare là e aprire le braccia a quello che ci viene donato. Colonia, Sydney, Madrid e... Rio. E quindi con quale aspettativa? Nessuna aspettativa in particolare, però so che 21 giorni, che sono tanti, 21 giorni di fede intensi, sono un'emozione unica, perché poi torni a casa e comunque ti dà una spinta, una carica importante per tutto quanto l'anno. Con che spirito partono questi giovani? Beh c'è tanta adrenalina, ma sicuramente lo spirito è quello di andare a fare un'esperienza bella, un'esperienza che possa cambiare anche la vita in qualche modo. Tue amici cosa hanno detto quando hai detto che andavi alla GMG? Hanno detto all'inizio ero un po' scettici, perché ovviamente è impegnativo, è stato difficile, non è semplice come scelta, soprattutto anche per i costi, siamo tutti giovani, la maggior parte di noi non lavora, studia e quindi è stata un'impresa, già scegliere di partire. Poi ovviamente quando ho detto che partivo lo spirito loro era con me, nel senso che si sono aggiunti con la felicità. Ma le cose più belle che ti lasciano le GMG cosa sono? Internazionalità, fede e Papa.